Vorrei essere la tomba quando morirai, e dove abiliterai, il cielo sul quale dormirai. Ieri sera il Teatro a Mare Pellegrino 1880 ha colto il concerto dedicato alle immortali canzoni di Lucio Dalla. L'anno che verrà è il titolo che è stato scelto come augurio per il nuovo anno, sperando che sia tre volte Natale e festa tutto l'anno. Ad interpretarle sono state Peppe Servillo alla voce, Javier Girotto al sax, soprano e baritono, e Natalio a Mangalavite al piano, tastiere e voce. Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta, e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani. Con queste parole Peppe Servillo ha presentato il loro concerto. Si tratta dell'ultimo spettacolo della settima edizione della Rassegna Ascurata, Cunti e Canti al Calar del Sole, Memorial Enrico Russo, manifestazione ideata e organizzata dal Movimento Artistico-Culturale Città di Marsala-Marc. Per l'ascurata il trio di musicisti floriclasse ha proposto un concerto su e per Lucio Dalla, che, spiegano, ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare. A noi il tentativo di rileggere i suoi brani, tenendo conto di tutto questo, sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercale la vita del fare poesia. Il prossimo ritorno mi piacerebbe essere un angelo, e non un trono, non un serafino, non un cherubino, ma un angelo qualsiasi, normale. Così stare insieme ai bambini, insieme ai vecchi, praticamente insieme a voi. Allora giochiamo come se fossi a un ritorno, e invece di essere quel cantantino che sono, il cantantino è lui e gli alut. Invece di essere quel cantantino che sono, fossi un angelo. One, two, three.